Una buona giornata dalla redazione di Telegenova come tutti i mercoledì, i lunedì e i venerdì. Il nostro appuntamento con Teniamoci Compagnia dalle 10.30, sino a mezzogiorno ci teniamo compagnia per parlare di quanto accade nella Liguria, in Italia e nel resto del mondo. È una giornata, sono giornate particolarmente impegnative ovviamente, la questione sanitaria continua a tenere banco, si è aggiunta ormai da un po' di tempo anche la questione della vaccinazione che sarà uno degli argomenti principali di questa puntata, ma tanta, tanta politica ovviamente in questa prima parte di trasmissione, sia la politica nostrana. Oggi poi è un giorno molto importante anche a diverse migliaia di chilometri da qui, oltre all'Oceano Atlantico, finisce il mandato molto discusso di Donald Trump. Inizia quello di Joe Biden, tanti tanti argomenti di cui parlare, lo facciamo con il nostro primo ospite che introduco e che ringrazio per essere con noi, Stefano Baleari, consigliere regionale con Fratelli d'Italia, grazie. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tanti tanti argomenti Baleari, davvero di cui parlare ovviamente, partiamo dalla fine, partiamo da quello che è successo ieri, assistito insomma a una giornata davvero particolare per la politica italiana, un thriller si era detto che aveva messo in grossa difficoltà il governo, è diventata anche, dobbiamo dirlo, una commedia molto italiana, a un certo punto con quanto accaduto con il VAR, possiamo dire che è intervenuto per controllare che tutti i voti fossero lì, alla fine i voti hanno espresso una maggioranza molto striminzita per il governo di Conte, 156 voti, ne servivano circa 150 per poter rimanere in carica, qual è il suo commento sulla giornata di ieri? Un'unica parola, imbarazzante, veramente imbarazzante perché scopro in questo momento, ma semmai non è che lo scopro, si convalida maggiormente in questo momento che l'interesse del paese è secondario, è fondamentale rimanere attaccato alle poltroni nelle quali si siedono, lo trovo veramente imbarazzante nei confronti del paese, di tutti i cittadini che stiamo vivendo un momento veramente difficilissimo, difficilissimo da un punto di vista sanitario, ovviamente difficilissimo da un punto di vista economico che sono estremamente correlati e questi giochetti dalla politica non fanno altro che allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica, che di fatto dovrebbe essere qualche cosa di straordinario, nel senso che dovrebbe occuparsi del bene dei cittadini, del bene del paese, invece purtroppo in queste occasioni qua ci si rende conto che alcune persone che si dedicano alla politica, dei politicanti, perché non sono dei politici… Non li chiama responsabili lei, mi sembra di capire che questo termine non… Assolutamente, non è questione di responsabilità, anche perché guardi, onestamente le persone che hanno detto che è dei responsabili andare al voto in questo momento qua, dovrebbero cercare di capire alcune cose, intanto in Europa e nel mondo, nonostante le problematiche che ci sono legate al Covid-19, si va a votare in determinati paesi, pertanto voglio dire, non capisco perché in Portogallo piuttosto che in Spagna si possa andare a votare, in Italia no. Il fatto lei dice che in questi paesi si vada a votare per la fine del mandato rispetto a una caduta di governo, non fa differenza. Ma assolutamente no, e questo qua è il primo punto. Seconda cosa, se andare a votare non si può per motivi di Covid, eccetera, eccetera, perché hanno stabilito che si possa andare alle elezioni amministrative lo stesso in questo periodo, dove voglio dire non riesco a capire, pertanto c'è i temi che vengono sollevati sul fatto che sia il responsabile andare a votare, anche perché poi voglio dire ci saranno le elezioni, si dovessero essere le elezioni, il governo in carica attualmente continuerebbe a lavorare sino al momento delle elezioni, pertanto voglio dire, non è che lasceremmo il paese allo sbando senza nessuno che governi, ci sarebbe il governo che traghetta, che si arriva a signare le elezioni e dopo di che ci sarebbe il nuovo governo. Io ritengo veramente uno spettacolo vergognoso il fatto che alcune persone ieri poi siano rientrate successivamente, abbiano dovuto fare, analizzare i voti, cioè è una roba… Insomma non è andata neppure in maniera particolarmente fluida la situazione al Senato. Anche molto poco elegante devo dire. Certo, questo è stato un po' l'impressione generale a prescindere dal risultato. Assolutamente, persone che hanno votato la fiducia allo stesso per non andare a casa poi, perché poi su alcuni partiti, e mi permetto di dire ad esempio i 5 Stelle, sanno benissimo che alle prossime elezioni ne verrà eletto uno su tre forse. Che adesso godono, lei dice, di una maggioranza che non rispecchia la situazione del paese. Ma no, 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 rispecchia quello che sono i desiderate, le necessità economiche di alcune persone che sono sedute al governo, cioè alle camere. Pertanto diventa oltremodo imbarazzante cercare di farlo digerire al paese, cosa che secondo me non ci si riesce. Senta Valerio, io le chiedo anche, perché comunque in questo momento il governo ha incassato la fiducia, ma si apre una fase piuttosto critica a prescindere, perché si è ristretta comunque la maggioranza che appoggia Conte, e peraltro è più, come dire, variopinta. A questo punto diventa complicato raccogliere e gestire una maggioranza che non è più formata, possiamo dire, da due grossi blocchi, più Italia Viva, ma appunto con diversi, appunto gruppo misto e vari... Scappati di casa, mi chiamerei, mi permetto di usare questo termine con... Chiamiamoli semplicemente gruppo misto. Però a questo punto passa anche un po' la palla al Presidente della Repubblica, Mattarella, che dà l'impressione di voler accettare, aveva già detto prima, in realtà una maggioranza non assoluta, ma semplicemente la pura maggioranza che ieri ha votato Conte. Ma nessuno aveva dei dubbi che Mattarella avrebbe detto... Giorgio Melori ieri si è espressa in maniera piuttosto forte, dicendo ho fiducia che il Presidente Mattarella non chiuderà un occhio, non lo ritiene forse un po' uno sgarbo istituzionale ai confronti della figura di Mattarella? Però devo dire che la figura di Mattarella è stata molto evanescente in questo periodo qua, pertanto voglio dire determinati commenti anche piuttosto forti sono dovuti a un certo punto, nel senso che la figura del Presidente, che dovrebbe essere, anzi sono sicuro che sia il garante del rispetto della democrazia, già secondo me viene un pochino a vacillare nel momento in cui i numeri non sono più rappresentativi di quello che sono i desiderati del Paese, pertanto voglio dire su certe posizioni. E poi sul fatto che si continui a dare fiducia a questi esecutivi che di fatto non rappresentano proprio il Paese e soprattutto non rappresentano ciò che vogliono i cittadini, mi sembra che sia un po' una forzatura, sinceramente. A prescindere da queste situazioni si erano viste anche altre ipotesi, diciamo che tendenzialmente anche nei giorni scorsi l'ipotesi di tornare alle elezioni era sempre rimasta piuttosto sullo sfondo, c'era però l'impressione che forse Renzi si aspettasse un cambiamento al vertice, che poi non è avvenuto, si è parlato di Draghi, lei ritiene che fosse fantapolitica in questo momento o effettivamente Conte non è più il leader che serve all'Italia? Ma secondo me i personalismi dovrebbero essere lasciati un po' da parte, nel senso che la figura di Conte che a me non ha mai rappresentato, devo dire la verità, non è che si possa sostituire con un'altra figura in automatico con la stessa compagine, perché vede il problema che questa compagine di governo è talmente distante all'interno della stessa compagine di governo, che è impossibile riuscire ad avere, perché si tratta sempre di mercificare io ti do questo, se tu mi fai questo, non c'è una visione globale da portare avanti, diventa un po' una trattativa Questa visione avrebbe un governo di centro-destra o sarebbe altrettanto diviso? Perché sono comunque tante componenti quelle che andrebbero eventualmente... Allora, intanto il centro-destra devo dire che si è sempre mostrato molto compatto Lei peraltro lavora in una coalizione... Io faccio l'esempio di ciò che è avvenuto dal 2015 al 2020 con la coalizione di centro-destra in Regione Liguria faccio lo stesso ragionamento con la coalizione che è analoga a quella della Regione Liguria che ci sia in comune in questo momento qua, che è dal 2017 continua tutt'ora e la conferma che è stata data poi al lavoro di questa giunta regionale, parliamo di settembre 2020 pertanto ritengo che su questo modo di operare si potrebbe lavorare benissimo anche al governo Su scala nazionale, io la porto un po' più distante in questo momento anche dai confini italiani oggi è una giornata importante per chi fa il suo mestiere, ma un po' per tutti perché ormai è chiaro che quello che succede in America poi ha sempre un riflesso e la mia domanda è proprio su questo negli ultimi anni abbiamo assistito al vento che dall'America poi si spostava sull'Europa dopo l'elezione ricorderà di Obama, vi era stato l'avvento delle forze neoliberali di centro-sinistra possiamo chiamarle, dopo l'avvento di Trump sicuramente una grossa spinta invece di alcuni partiti chiamiamoli conservatori che hanno preso diversi voti teme o comunque pensa che l'avvento di Joe Biden porterà una crisi di quello che si è chiamato il populismo di destra? Ma io credo proprio di no sinceramente anche perché il voto Biden piuttosto che Trump era un voto dettato anche da determinati atteggiamenti avuti dal Presidente Trump anche lì era un voto un poco politico molto più personalizzato devo dire Lei come ha preso gli eventi che avrà visto in televisione? Gli ultimi eventi che ho visto in televisione mi hanno sconcertato sinceramente devo dire che non mi sono piaciuti perché poi io sono un democratico nel senso originale della parola e pertanto sono contro ogni tipo di violenza ovviamente la campagna elettorale americana che io non conosco ovviamente come fosse una nostra campagna elettorale sicuramente è stata giocata su dei toni molto asperi che non ho gradito da una parte e dall'altra ecco perché assolutamente e pertanto ritengo che poi le problematiche dei paesi siano così diverse che in questo caso rimangano concentrate all'interno dei confini americani assolutamente sì voglio dire ogni paese ha delle caratteristiche particolari gli Stati Uniti vivono in un momento anche loro molto particolare con questo anche loro problemi di pandemia di un'economia di tipo diverso cioè un rallentamento dell'economia che invece ha sempre funzionato in una certa maniera crea dei grossi problemi e pertanto ritengo che diciamo il risultato elettorale sicuramente non sia incidente su quello che possono essere le politiche le correnti poi peraltro insomma ricordiamo che se proprio c'è un governo in Europa che si è tenuto abbastanza ambiguo in realtà sulle preferenze Trump-Biden forse proprio il governo Conte sappiamo insomma anche delle polemiche che poi in questi giorni hanno toccato Matteo Renzi e tutto quanto di cui abbiamo parlato ci dobbiamo fermare solo per qualche istante e poi la riporto anche però su Genova sulla regione Liguria rimane con noi Stefano Baleare noi torniamo solo tra qualche minuto conteniamoci compagnia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti